Con una violenza inaudita l'ha picchiata fino a ridurla in fin di vita. Una donna nigeriana e in gravissime condizioni, il suo compagno James Boyge, anche lui nigeriano di 31 anni, è stato arrestato dalla polizia. Tutto è cominciato quando l'uomo, che solitamente vive a Napoli, si è presentato nell'abitazione della donna alla periferia di Lecce, pretendendo che lei gli consegnasse le chiavi di casa. Dopo un'accesa discussione, l'uomo l'ha picchiata selvaggiamente e la lite si è trasformata in dramma. La vittima ha fatto appena in tempo a chiamare la polizia. Gli agenti delle volanti, giunti sul posto, l'hanno trovata in gravissime condizioni, tanto da richiedere immediatamente l'intervento del 118 e il ricovero. Portata d'urgenza in ospedale, le sono state riscontrate gravi lesioni dovute alle percosse. Il referto parla di milza, fegato e surrene gravemente lesi. I medici si sono riservati la prognosi. Alcuni vicini, che poco prima avevano udito le urla della donna, hanno confermato di aver visto allontanarsi un uomo di colore dall'abitazione della vittima. All'arrivo dei poliziotti dell'uomo non c'era più traccia. Poco dopo, però, il 31enne è stato rintracciato nei pressi del pronto soccorso del Vito Fazzi, dove si era recato per raggiungere la donna. Durante la perquisizione aveva ancora in tasca le chiavi di casa della compagna. Il nigeriano è stato arrestato e condotto in carcere.